Ho giocato male, è la partita più brutta della mia gestione contro una Lazio che gli è riuscito tutto, per cui complimenti a loro, mettiamoci un po' di cenere sul nostro capo, ci dobbiamo ricordare l'amarezza che abbiamo adesso e dobbiamo saper reagire per la partita prossima. È andato storto che non abbiamo fatto quello che siamo abituati a fare, per cui sapevamo come ci avrebbero attaccato e sono stati bravi loro e noi siamo stati un po' troppo disuniti, un pochino meno reattivi del solito. Abbiamo corso di più, ma abbiamo corso male. Non credo l'euforia perché è battuto il Brescia, ma poi dopo vieni a giocare contro una squadra che ha fatto 10 risultati positivi, sta lottando con Juventus e Inter, ha una partita da recuperare per cui potrebbe essere potenzialmente la seconda. Non credo che ci sia stata sufficienza nell'affrontare questa gara. Non siamo stati pronti subito, siamo stati troppo aperti, ci hanno bucato centralmente e sono stati bravi. Si prepara, come abbiamo sempre fatto, con molta umiltà, molta determinazione, studiando bene l'avversario e cercando di fare le cose che già sappiamo, riproporle ogni volta.